Buona giornata amici, ben trovati alla rassegna stampa di Fano TV. Oggi è mercoledì 6 dicembre 2023 e vediamo subito chi si festeggia nella giornata di oggi sfogliando l'almanarco del giorno. Ecco, lo troviamo, è un santo che fa stagione, cos'è di dire, ma che fa atmosfera e che insomma dà un po' di calore a tutti noi. Chi è? È San Nicola, San Nicola di Bari. San Nicola di Bari è un altro turco, dopo che abbiamo festeggiato Santa Barbara e San Saba nelle giornate scorse, ieri l'altro e ieri, oggi festeggiamo San Nicola. San Nicola era nato a Patara, nella Licia, nella Turchia odierna. La Licia era una regione antica, che però comunque si trova nel sud della Turchia, quella che prospetta il Mediterraneo. Visse tra il III e il IV secolo. Da giovane si ritirò in un monastero presso Mira, di cui divenne anche vescovo. E durante la sua vita compì non pochi miracoli. Fu molto amato. Dopo la morte le reliquie rimasero nella cattedrale di Mira fino al 1087, quando giunsero in quella località dei corsari baresi che lo trafugarono. In quel momento c'era l'impero musulmano che stava comunque avanzando, che stava occupando molti territori e molte reliquie cristiane furono appunto portate via per sottrarle appunto alle devastazioni musulmane dell'epoca. Furono portate a Bari e da quel momento San Nicola divenne veramente il grande protettore di Bari. Ma c'è anche qualcosa di più, perché da San Nicola la sua immagine si trasformò in quella di Babbo Natale. Ed ecco perché è un santo che oggi fa atmosfera e che rende ancora più caloroso il Natale. San Nicola di Bari, ovvero Babbo Natale. Passiamo ora alle previsioni del tempo. Sulle macchie oggi cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale, fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogge. I venti saranno moderati, il mare mosso, le temperature 6 la minima, 9 la massima. E vediamo che il sole sorge alle 7.33 e tramonterà alle 16.27. Una giornata ancora più corta, ma ancora non siamo arrivati al top, ovvero al 21 dicembre. E allora apriamo i giornali e diamo un'occhiata sia al Corriere Adriatico che al resto del Carlino, che hanno la stessa apertura oggi sulla pagina di Fano. Ebbene, ieri è stata una giornata particolare per gli studenti, soprattutto del liceo Nolfi a Polloni, che hanno voluto ricordare una studentessa che è rimasta nei loro cuori. Si tratta di Benedetta Vitali, una delle vittime della tragedia di Corinaldo. Ieri il liceo Nolfi a Polloni, con il preside Samuele Giombi, ha voluto premiare gli studenti meritevoli che frequentano le prime e le seconde classi dell'istituto nei diversi indirizzi di studio, ovvero l'artistico, il linguistico, l'economico, le scienze umane, insomma tutti gli indirizzi. E sono ragazzi tantissimi, tantissimi che hanno superato la media addirittura del 9 l'anno scorso. Sono ragazzi molto studiosi, molto aperti, molto simpatici, che hanno la testa veramente sulle spalle. Il loro numero veramente ha dilungato molto l'elenco che è stato premiato nella giornata. E alla fine si è dato un diploma particolare, ovvero il diploma di maturità a Benedetta, che non ha potuto conseguirlo perché è appunto rimasta vittima di questa tragedia. Le sue amiche si sono diplomate l'anno scorso e anche lei, dunque quest'anno, è stata annoverata nel numero. Un diploma che è stato consegnato al padre Corrado e al fratello Francesco in un grande caloroso applauso che è scaturito da tutta la platea che si è riunita nella sala del gonfalone ieri a Fan. Maturità, diploma per Benni, lungo e commosso applauso, intitola oggi il Corriere Adriatico. Benedetta Vitali, il suo liceo non l'ha dimenticata. Il diploma del linguistico Nolfi Appolloni è stato consegnato ieri in memoria della ragazza morta a Corinaldo. Ecco le due aperture dei quotidiani di oggi sulla pagina di Fan. Ma quello che non riescono a riportare i quotidiani oggi, ci sarà domani sui giornali, è il ricordo poi che è stato fatto ieri sera dal Partito Democratico, ma non solo, a Tommaso della Dora. Il segretario morto nel maggio scorso, giovanissimo, e ha lasciato veramente un ricordo indelebile in tutti coloro che l'hanno conosciuto, non solo i compagni di partito, ma tutti coloro che l'hanno apprezzato come amico, come operatore sociale, come amante della musica, come un ragazzo estroverso, che veramente ha dato qualcosa di sé, non solo al suo entourage, ma a tutta la città. Di questo ne parleremo domani. Continuiamo ora l'esame delle notizie che appaiono sul Corriere Adriatico. Centrosinistra verifica tra gli alleati sulle primarie. La sintesi il 18 dicembre, poi l'ultimo invito al Movimento 5 Stelle. Ancora non si è riusciti a trovare la quadra nel centro-sinistra per formare un'unica coalizione tra i partiti che sono al governo della città e i cosiddetti progressisti. Ancora non c'è una convergenza sulle primarie. Ci sono diverse anche differenze programmatiche e quindi si lavora per cercare di raggiungere quello che si cerca di contrapporre al centro-destra. Ma vediamo anche un altro articolo di spalla del resto del Carlino. Elezioni e sindaco. De Leo e Mascarin si confrontano. Sì, perché anche Fano TV sarà presente con una diretta oggi pomeriggio al Taghotel dove verrà un primo confronto diretto tra due candidati sindaco, ovvero Samuele Mascarin per il centro-sinistra e Giuseppe De Leo che opera in una sfera del centro-destra. È il primo dibattito tra i candidati sindaco per le amministrative del 2024 a confrontarsi questi due esponenti che hanno rotto gli innugi mentre il grosso delle due coalizioni ancora pensa, ancora riflette, ancora latita. La diretta è prevista alle ore 16 e durerà circa un'ora e mezzo. Ci saranno delle domande e saremo anche noi presenti come giornalisti faremo delle domande e cercheremo di capire i programmi, le intenzioni di due candidati le differenze che le separano e quello che intendono fare appunto per poi essere così sostenuti anche da altre forze delle due coalizioni. Passiamo ora al, torniamo anzi ora al Corriere Adriatico e vediamo il secondo titolo di apertura. Si definisce la carta archeologica alla ricerca delle antiche vestigia. Un interessante convegno si è stato organizzato dal Centro Studi Vitroviani alla fine della settimana scorsa nella sala della Memo della Mediateca Montanari per presentare la carta archeologica ovvero il GIS. Il GIS è un sistema informatico dove si possono... è un contenitore, è un contenitore dove ci sono documenti, mappe, studi tutto quello che riguarda il sottoterra di Fano. Fano è cresciuta su se stessa dall'epoca romana poi ha sedimentato tutte le sue costruzioni l'epoca medievale, rinascimentale, barocca insomma fino ai giorni d'oggi ebbene tutta questa serie di informazioni questo grande sistema di cose nascoste verrà riportato in una mappa una mappa importante per gli studi appunto delle epoche antiche ma anche per programmare lo sviluppo della città perché sapere che in quel luogo ci sono delle vestigia oppure occorre incentivare le scoperte, gli studi, gli scavi in un altro luogo è importante per preservare quel magnifico contenitore che è il centro storico di Fano apprezzato da tutti a livello sia culturale che turistico si definisce la carta archeologica la ricerca dell'antica vestigia presentato dal centro studi Vitruviani un lavoro attraverso la piattaforma GIS e qua vediamo nella fotografia coloro che l'hanno presentato ovvero Oscar May il direttore scientifico del centro studi Vitruviani poi abbiamo Laura Cerri, l'archeologa che abbiamo imparato a conoscerla quando hanno fatto gli scavi a Porta Maggiore e poi ha proseguito ovviamente in altri siti della città e poi Ilaria Venanzoni la funzionaria della soprintendenza che in quest'ultimo periodo è molto presente a Fano soprattutto negli scavi di via Vitruvio che ci auguriamo vengano ripresi al più presto Area Exagi per lavori al via Masseri critica le prescrizioni ebbene sono iniziati finalmente dobbiamo dire i lavori per l'arredo dell'area Exagi un'area lasciata così in abbandono da tantissimo tempo perché i lavori di bonifica hanno così, ci sono protratti per anni e anni e anni e finalmente sono giunti a soluzione ebbene i lavori sono finalmente iniziati ci sono queste benedette prescrizioni della soprintendenza che piacciono poco alla Giunta perché ha modificato sostanzialmente il progetto con l'inserimento della vecchia fontana De Renzi che ora si trova in via Nazario Savro è certo che coloro che si riuniscono attorno a questa fontana non sono affatto contenti di vedersela portare via però insomma vedremo che cosa accadrà per quanto riguarda la soluzione che verrà adottata giriamo la pagina e parliamo della ferrovia sulla pagina della Val Metauro il consigliere regionale Lucas Filippi che ribatte al Comitato per la Ferrovia del Metauro il Comitato aveva denunciato una discrepanza tra il progetto regionale e le intenzioni ministeriali per quanto riguarda la ferrovia Lucas Filippi dice no, non c'è nulla di diverso in quanto la Regione non ha intenzione di cambiare rotta e dice abbiamo documentato l'inserimento a pieno titolo della FAN Urbino come sviluppo dell'anello ferroviario Ascoli Porto d'Ascoli, Civitanova, Fabriano in prosecuzione verso Urbino attraverso Pergola lungo la tratta del sub Appennino insomma se esce da una porta rientra dalla finestra e quindi questo tratto ferroviario verrà riattivato secondo quanto ha detto Ser Filippi la tratta consente un collegamento tra costa e dentro terra e con la sub Appennina Italica che è di fondamentale importanza a Cartoceto sorge l'allarme per la situazione di Rio Secco e sappiamo quanto sia importante mantenere la cura e la manutenzione dei fossi e dei torrenti insieme per Cartoceto composta da Gianluca Longhi capogruppo Andrea Letizzi Eliana Lomanno e Giulio Roberti afferma che Rio Secco è in condizioni inaccettabili ebbene qui la presenza di una folta vegetazione in silvatichita poi ci sono anche degli animali insomma che scorrazzano molto liberi ma con un certo timore da parte dei residenti rende indispensabile un intervento presto veloce di manutenzione ecco perché si è dato l'allarme per la situazione di Rio Secco una notizia di cronaca ci giunge da Marotta maltrattava la moglie e le figlie costrette a dormire nel pollaio si tratta di un 58enne albanese che è comparso davanti al giudice ebbene era soggetto a violenti scatti di iras la prendeva con la moglie e con le figlie di cui una addirittura era minorenne minorenne e quando insomma eccedeva addirittura costringeva le donne a fuggire e a ripararsi e dormire poi la notte e la ghiaccio in un pollaio vicino a casa loro insomma una situazione insostenibile che ha portato l'uomo davanti al giudice minacce e maltrattamenti verso la moglie e le figlie le donne costrette a scappare e dormire in un pollaio ebbene l'uomo l'uomo è stato dunque ieri si è svolto davanti al giudice la missione al rito abbreviato con la discussione che è stata differita al 20 febbraio prossimo e quindi dovrà poi rispondere di questi reati c'è anche oggi un articolo che riguarda Montebello è il palazzo Ducale con gli stucchi del Brandani perché avere una ribalta così prestigiosa come quella del Louvre non è ovviamente di tutti i giorni e quindi fa bene il sindaco di Montebello a così a evidenziare questa grande grande opportunità si tratta di un convegno determinato dallo stucco di grande decorazione in Francia e in Europa dal Rinascimento al 1850 questo è il tema che verrà posto in discussione ebbene si tratta di una prestigiosa ribalta per il paesino metaurense soddisfatto il sindaco Antonio Sebastianelli l'approdo a un evento di prestigio come quello in Francia è un primo significativo premio al lavoro che l'amministrazione ha iniziato con l'acquisto appunto di questo palazzo nel 2022 per scongiurarne la trasformazione in un hotel e già le visite hanno insomma i mesi scorsi hanno così ottenuto un grande gradimento da parte di coloro che hanno visto questa bellezza passiamo ora alla pagina di Senigallia dove coloro che intendono sposarsi nella rotonda nella celebre rotonda sul mare dovranno pagare qualche soldino in più ebbene non costa poco sposarsi nella rotonda di Senigallia costa mille euro attualmente e la giunta sta infatti pensando di aumentare questo prezzo in modo particolare d'estate magari di fare dei prezzi diversi tra l'estate e l'inverno caro matrimoni scattano i ritocchi sposarsi alla rotonda costerà di più prezzi al rialzo anche in altre location il sindaco ci saranno una tariffa invernale e una estiva insomma bisognerà poi valutare come sposarsi quando sposarsi se d'inverno o d'estate insomma ci sono i luoghi prestigiosi che fanno da cornice ai matrimoni che cominciano a costare prima magari erano gratis ora invece occorrerà pagarli e si aggiungono le spese a quelle del matrimonio veniamo all'apertura di Pesaro l'apertura di Pesaro è dedicato al quartiere di Torraccia infatti il quartiere sta per cambiare pelle per quanto riguarda tutte le trasformazioni che sta subendo in questi ultimi tempi nuovi edifici e da oggi rivoluzione in via Gagarin oltre al nuovo impianto ciclorotellistica e la ciclabile di collegamento con Vismara aumenteranno a Torraccia anche gli insediamenti commerciali a partire da oggi e fino al prossimo 2 febbraio afferma il giornale verrà attuata una modifica della viabilità in via Gagarin per consentire alla ditta King Spa di realizzare lo scarico di vasche per l'invarianza idraulica opera che rientra nelle opere di urbanizzazione primarie collegate al nuovo edificio commerciale insomma si tratta di interventi per dare un volto nuovo ma anche più funzionale a tutta la viabilità di quartiere parchi e strade più sicuri via fratti però peggio di prima Pantano stile l'elenco delle emergenze messaggi per due assessori Pozzi e Belloni quali sono le richieste del quartiere vengono evidenziate in questa tabella la pulizia delle calitoie insomma quando poi sono intasate come vedete qui in questa foto l'acqua non riceve e quindi ristagna la sistemazione di via Gioliti una delle arterie di attraversamento della città di Pesaro la sistemazione del parco Trulla e la modifica di un tratto della ciclabile di via Fratti queste le richieste appunto di Pantano articolo di cronaca spaccia cocaina due minorenni una delle ragazzine colta da malore è stata soccorsa dal 118 mentre era nell'auto proprio nel momento in cui veniva il passaggio dello stupefacente ieri il giudice ha mandato il pusher ai lavori utili si tratta di un moldavo di 26 anni che è stato accusato di cessione di stupefacenti a due ragazzine minorenni e ieri il caso è finito davanti al GUP non ci sarà detenzione ma ci sarà appunto l'avvio ai lavori socialmente utili Rosa ha voluto riabbracciare Ultimo mi opererò al cuore ascoltandolo si tratta della 38enne pesarese che soffre dalla nascita si può dire di una malattia che la costringe nella sedia a rotelle che si era risvegliata dal coma con le canzoni del cantautore appunto Ultimo a gennaio ci sarà l'intervento ma prima di sottoporsi alla operazione la donna ha voluto andare ancora una volta a Roma per salutare e vedere il suo idolo ovvero Ultimo ha stazionato a lungo davanti al bar frequentato appunto dal cantautore finché alla fine non è stata ricevuta da lui non è stata salutata e questo le ha riscaldato il cuore e le ha dato ancora più coraggio per affrontare le prove che l'attendono prossimamente giriamo ancora la pagina e troviamo ancora questo grande complesso del San Benedetto di Pesaro l'appalto ci sarà entro l'anno tra l'ERP e la social housing verranno realizzati 38 alloggi l'ERP e l'istituto delle case popolari ad Urbino si parla ancora di sanità la politica però resta divisa Foschi l'assessora c'è il potenziamento per Ubaldi del Partito Democratico l'audizione dei vertici della regione c'è stato il consiglio comunale dedicato alla sanità con la presenza di Saltamartini e di Baldelli c'era anche Acquaroli l'audizione dei vertici della regione è stata solo una parata per quanto riguarda l'opposizione e invece soddisfatta Isabetta Foschi neosegretaria provinciale di Forza Italia oltre che essere assessore di riferimento nel comune ha così parlato di sanità di fatto la regione ha la ferma volontà ha detto di potenziare la sanità urbinate e staremo a vedere se queste parole a queste parole seguiranno i fatti e ora diamo un'occhiata al resto del Carlino l'apertura l'abbiamo vista è dedicata a Benedetta tra la notte tra il 7 e l'8 ricorre appunto il quinto anniversario della tragedia di Corinaldo e soprattutto saranno i genitori i ragazzi del cogeo di questo comitato che si è costituito da quella tragedia a perpetuarne il ricordo si vuole soprattutto che la sicurezza nei locali frequentati dai giovani venga mantenuta con grande grande rigore in modo che queste tragedie non si verifichino più ferrovia fanurbino Sir Filippi conta di riaprirla entro il 2022 è precisa il resto del Carlino per quanto riguarda la polemica con il comitato delle ferrovie del Metauro giriamo la pagina e vediamo che un altro articolo di apertura è dedicato all'area ex agipe qui vediamo l'assessore a Brunori proprio nell'area che sta per essere oggetto dei lavori si comincia con il livellamento per poi fare spazio alle benne che dovranno tracciare le nuove aiuole lavori di riqualificazione al via per un'area della città in abbandono da nove anni l'assessore Brunori la ditta sta perimentando il cantiere e definisce le quote appunto le quote della superficie Depoli Depoli il senatore dell'Udc il treno Ravenna-Roma deve fermare anche a Fano lo sappiamo tutti speriamo che lui e il Parlamento possa indurre il governo ad attuare questo punto importante che tutti noi auspichiamo Serra-Santabondio poste a Sigliozzo avere un servizio postale in un centro insomma un po' lontano da raggiungersi come Serra-Santabondio è fondamentale in realtà questo servizio funziona a Sigliozzi tre giorni alla settimana soltanto una volta almeno erano cinque ecco perché c'è tutto il paese che reclama questo questo servizio importante e fu proprio il sindaco Ludovico Caverni a intraprendere questa battaglia per cercare di dotare il proprio paese un servizio postale che è indispensabile per mille pratiche pensioni lettere pacchi insomma tutto quello che serve a un servizio così importante a terre roveresche a terre roveresche vediamo che si è elaborato un programma di iniziative molto intenso per quanto riguarda il Natale tempo di festa con i Babbi Natale in allegria e prima di chiudere voglio segnalarvi questo articolo sulla pagina di Urbino pista d'atletica siamo allo scatto finale fatti grandi lavori allo stadio Montefeltro parla l'assessore Marianna Vetri a breve l'inaugurazione e con questo terminiamo la nostra rassegna dandovi appuntamento come sempre per le notizie del giorno alle ore 20.30 sulle TG di Fano TV Occhio la notizia e domani per la consueta rassegna stampa alle ore 7 grazie per l'ascolto a risentirci a risottos Grazie a tutti.